Musica Sabato 9 e domenica 10 febbraio abbiamo la compagnia St. Wayne, compagnia di teatro fisico diretta da Loreda La Parrella con lo spettacolo Le Etacre. Musica Il lavoro di Loredana è molto vicino al lavoro teatrale, chiaramente si parla di movimento, però viene richiesto anche l'uso della parola e i danzatori sono più interpreti che non veri e propri esecutori di danza. Anna Politovskaia Denuncia agli orrori della guerra in Cecenia Dicembre 1999 Organizza sotto i bombardamenti l'evacuazione dell'ospizio di Grozny salvando 89 persone Uccisa a colpi d'arma da fuoco davanti alla porta di casa Mosca 7 ottobre 2006 Musica Grazie a tutti